ciao allora oggi vi parlo di questa base occhi per ombretto della essence si chiama i love stage e shadow base base e ombretto e contiene 4 ml di prodotto ed viene 2 euro e 95 meno di 3 euro quindi super low cost allora intanto è questo che ha questa formulazione in il colore è questo qui l'applicatore è quella spugnetta è finito quindi non so come farvelo vedere ma comunque sia è un color carne che si stende sull'occhio e proprio diventa invisibile allora cosa dire di questo prodotto intanto che super low cost cosa importante poi a me piace davvero tanto perché fa il suo lavoro ed è perfetto come base per l'ombretto si asciuga immediatamente applichi sopra l'ombretto che ti rende le ore resta leggermente più intenso e si fissa bene e durante il giorno non tende a crepare o screpolare quindi è ottimo fa lo stesso lavoro dei dei delle primer perché sono primer più costosi quindi davvero valido io lo uso tutti i giorni e non mi ha mai dato nessun tipo di problema sì gli inci non è proprio il massimo però comunque sono 3 euro costa e comunque sia fa davvero il suo lavoro ho visto che c'è un'altra formulazione che dicono che sia non mi ricordo c'è un'altra formulazione di questo prodotto però io ancora non l'ho trovata questo invece sono varie volte che lo compro e lo uso e lo finisco quindi trovo davvero che sia super valido soprattutto per il prezzo che ha se soprattutto non siete e non utilizzate spesso i primer e vi consiglio di andare su questi prodotti perché nel caso che si secca sono 3 euro inutile andare a far cercare di seccare un prodotto da 15 o 20 euro non mi sembra il caso e poi questo è davvero molto valido non va a finire nelle pieghe resta bello stesa non va a fare grumi quindi davvero super super consigliato mi sono allungata tantissimo per dire ve lo consiglio e questa è la recensione fatemi sapere se l'avete provato come vi siete trovate io ve lo straconsiglio se vi è piaciuto il video mettimi un like e iscriviti al canale così non perdere la prossima recensione di beauty alla prossima ciao